Il tema di oggi è l'intersezione con l'asse y e il coefficiente b. Prima di andare avanti andiamo a ripassare la formula della funzione lineare. Allora y è uguale a ax più b. Vi ricordate? A e b si chiamano coefficienti, invece y e x sono valori, cioè x è l'argomento e y sarebbe il valore. E adesso andiamo subito a risolvere l'esempio 1. Scrive, disegna le rette y è uguale a 2x più 1, y è uguale a meno x più 3, y è uguale a 3x meno 4. Sono tre funzioni lineari, cioè tre rette. Per facilitare un po', io ho fatto tre tabelle, dove noi sceglieremo il valore x per poi calcolare il valore y. Io sceglierei, come sempre, per il valore x 0, perché? Perché è più facile calcolare. Se al posto della x metto 0, allora sarà 2 per 0 mi da 0 più 1 fa 1 e la soluzione y sarà 1. Se al posto della x scrivo 1, allora sarà 2 per 1, 2, più 1, 3. E vado subito a segnare questi puntini nel sistema cartesiano. Allora, il primo punto è 0 sull'asse x e 1 sull'asse y. Allora, questo punto sarà il primo, 0,1. Il secondo punto è 1,3. 1 e 3. 1 sull'asse x e 3 sull'asse y. Perciò qui sarà il secondo punto, 1,3. Adesso posso subito collegare questi due punti e la nostra prima retta è qui. Qui scriverò la funzione y è uguale a 2x più 1. Andiamo avanti. Vediamo la seconda. Se scelgo per x, 0. meno 0 più 3 mi dà naturalmente 3. E se per x scelgo il numero 1, meno 1 più 3 è uguale a 2. Perciò andiamo a vedere il secondo grafico. 0,3. qui sarebbe il punto 0,3. Poi abbiamo x1, y2. 1,2. Qui è il punto 1,2. Di nuovo posso collegare questi due punti e abbiamo la nostra seconda retta. Posso scrivere la risposta y è uguale a meno x più 3. Cioè scrivo la formula, cioè la funzione lineare. E vediamo ancora il terzo punto. di nuovo scelgo per x, 0. 3 per 0 fa 0. 0 meno 4 mi dà meno 4. Secondo punto scelgo 1. 3 per 1, 3. meno 4, meno 1. E vado a vedere 0 sulla x e meno 4 sull'y perciò il primo punto sarà questo. E segno 0,4. Il secondo punto 1,1 sarà questo 1,1 e collego ecco collego anche questa parte qua e scriverò la funzione lineare y è uguale a 3x meno 4. Allora noi abbiamo disegnato tre rette e vediamo adesso da che cosa dipende dove la rette interseca l'asse y vediamo la prima se guardo la prima linea dove interseca l'asse y nel punto 1 e dove si trova questo numero 1 se guardiamo bene la formula è questo qua qui si trova il numero 1 se collego alla formula iniziale vedo che b in questo caso è uguale ad 1 cioè il coefficiente b è uguale ad 1 vado avanti nella seconda linea dove interseca l'asse y cioè questa è la seconda scusate dove interseca l'asse y proprio nel punto 3 e se guardiamo bene la funzione lineare vediamo che qui si trova già il numero 3 se guardo la terza retta dove interseca l'asse y in questo punto qua perciò che punto è questo meno 4 e questo meno 4 si trova in questo punto qua perciò possiamo dire e possiamo anche segnare che questo è b dove la retta intersecherà l'asse y dipende dal coefficiente dal coefficiente b perciò se io avrei adesso un sistema cartesiano qualsiasi e disegnerei su di esso una retta qualsiasi che ha la formula y uguale a ax più b il punto dove la retta interseca l'asse y sarà il punto 0,b bene come vedete qua 0,3 0,1 e 0,4 perciò in generale sarebbe 0,b possiamo scrivere questo che la retta di equazione y è uguale a ax più b interseca l'asse y nel punto 0,b e il numero b scriverò sotto il numero b si dice ordinata all'origine della retta passiamo all'esempio 2 scrive disegna le rette y è uguale a meno 3x y è uguale un mezzo x e y è uguale a 4x di nuovo scelgo le coordinate x la prima 0 e vado a calcolare y uguale a meno 3 per 0 mi da 0 va bene poi se scelgo per esempio il numero 1 meno 3 per 1 è meno 3 vado vado subito a risolvere la seconda scelgo 0 come sempre un mezzo per 0 mi da 0 poi scelgo per esempio il numero 2 un mezzo per 2 lo scrivo qua un mezzo per 2 va bene se scrivo il numero 2 come frazione semplifichiamo 2 2 perciò rimane 1 1 e vediamo la terza equazione 0 4 per 0 mi da 0 e se scrivo il numero 1 4 per 1 mi da 4 ecco e adesso segno i punti nel sistema cartesiano 1 virgola meno 3 1 virgola meno 3 qui sarà il punto 1 virgola meno 3 vado avanti 0 virgola 0 sarà qui perciò posso tracciare la prima retta ecco traccio la prima retta e scrivo che y è uguale a meno 3 x vado avanti seconda di nuovo abbiamo il punto 0 0 e virgola 1 cioè 2 virgola 1 qui sarà il punto 2 virgola 1 e possiamo tracciare anche la seconda retta prendo un altro colore come prima e traccio la seconda retta che sarebbe y è uguale a un mezzo x e vado a vedere la terza 0 0 1 1 4 1 4 sarebbe qui 1 4 ecco qua e segno anche questa che si tratta della funzione y uguale a 4 x cosa avete notato in questa funzione non c'è la b non c'è la b e tutte 3 le linee passano attraverso l'origine se guardiamo la nostra formula vediamo che y uguale a x in questo caso b il coefficiente b non c'è non c'è cioè b è 0 se non c'è è uguale a 0 questo è molto importante per questo dove queste linee intersecano l'asse y nel punto 0 0 giusto nel punto 0 0 perché tutte passano per l'origine questo significa che se io disegnerei adesso una linea qualsiasi mettiamola in questo modo un po' eccola qua una linea qualsiasi che ha la formula y è uguale a a x comunque una cosa solo qui sarebbe y uguale a meno a x va bene perché una linea decrescente come questa vedete che ha il meno davanti però questa è un'altra storia adesso parliamo di questo l'ho messa così e naturalmente passa dove passa passa per il punto 0 0 questo è molto importante intersecano l'asse y e quello che dobbiamo dire è che la retta di equazione y è uguale ad a x passa per l'origine del sistema cartesiano perciò per ripassare dove una retta interseca l'asse y lo interseca dove nel punto b nel punto 0 virgola b cioè dobbiamo guardare solo la formula e vedere qual è qual è il numero b e poi scrivere che la linea interseca l'asse nel punto 0,b o in questi casi 0,1 0,3 0,4 o in questo caso 0,0 grazie della vostra attenzione nel seguito avrete il compito il compito all'interseca all'interseca e la